inter ci sei stende l'empoli e torna a più 14 campione il 22 nel derby inter ormai è tutta discesa inter scudetto in tasca non ho visto la partita perché avevo meglio da fare ieri sera però un uccellino pio 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 mi ha commentato che casualmente senza l'aiutino non vince l'interino dove era il piede di turam sul primo gol di di marco era più in là della linea nella varotta league tutto è concesso però parliamo di milan perché di quelli là sinceramente mi sono anche un po stufato tanto la loro bella stella di cartone è già bella che cucita ma non vi daremo la soddisfazione nel giorno del derby questo è poco ma sicuro vai tribù l'orso nera tribù di gente vera buongiorno e buon 2 di aprile a tutti a tutti e bentornata e bentornato qui sul canale del marietto milanista passato bene la pascola pasquetta vi siete rimpinzati bene perché adesso ricomincia il vero tour de force fino a fine fino a fine fino a fine stagione perché adesso stiamo entrando nei due mesi caldi di campionato e non solo per noi che siamo in europa ancora c'è il sogno di andare avanti comunque per vincere un trofeo continentale a differenza di chi in italia nella sua marotta league va avanti tranquillamente perché in europa conta meno del 0 o del 2 di picche proprio come il 2 a 0 ieri all'empoli che ha visto il gol di di marco e di sanchez alla fine ma mi hanno raccontato di questo episodio strano ma che strano un episodio strano a favore dell'inter no ma dai ma stiamo scherzando la nostra bella inter la squadra più forte del campionato la più solida con meno reti subite con più rigori a favore ma va dai su fate i bravi non volete essere se dai non fate sempre i complottisti dai su e che cavolo l'inter è la più forte merita di stare lì dov'è e allora la gazzetta interista dello sport così come tutte le altre ovviamente ci prova sinner a essere il numero uno al mondo complimenti a un tifoso del milan che non poteva essere altro se prima il miglior tennista era un milanista di okovic adesso l'altro miglior tennista sinner è milanista pure lui e beh ma i migliori si sa che ti fanno questa squadra qua allora la cara gazzettina interista intanto il like le hai messo vero no io cioè do per scontato ste cose like iscrizione abbonamenti aiuti trick e track e botte a muro ste cose qua le avete già fatto no posso andare liscio giusto andiamo allora i dubbi di conte ecco qua allora essere o non essere questo è il problema ma secondo me è agghiaggiante ricevere la proposta dei laurendis o no perché oggi visto che due mesi fa era già tutto fatto per conte per il milano che c'erano i fenomeni anche dei pioli out allora piuttosto ma a proposito pioli out ma che fine avete fatto non vi trovo più da qualche settimana siete scomparsi no dai se dovete continuare e semmai non succede ma se succede alziamo quella coppa lì a dublino quel giorno prendetevelo di ferie capito perché voi non meritate di esultare insieme a noi in caso è solo il vero milanista che è stato sempre sul pezzo anche nei momenti difficili merita il trionfo perché se no è troppo facile cosa volete la pappetta pronta no il milanismo è qualcosa che cioè nasce da dentro è qualcosa che sempre si è sostenuto ovunque comunque come me che sono nato con la serie b non con quei quattro tifosetti marmocchietti di adesso che non stanno manco i pioli out e beh si sa che nel calcio il 90 per cento capis minga di calcio vabbè comunque da laurenti preparatevi perché oggi ritorna delirium italicalcium cioè preparate perché oggi è la giornata del delirio con i miei personaggi oggi non farò tribuna il pallone anche perché forse 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 domani faccio un un summit perché o faccio uno faccio l'altro ovviamente domani forse farò anche una live domani nella tribuna il pallone dove facciamo un po' un riepilogo della di quest'ultima giornata perché ci stiamo avvicinando alla chiusura dei vari campionati e soprattutto il più interessante in questo momento è la premier league perché ieri ho visto una partita veramente imbrigliata tra city arsenal 0 a 0 mi è sembrato qualcosa di stranissimo per una partita inglese senza gol ma prima ho visto invece un bello spettacolo liverpool brighton e sono tutte lì appaiate più o meno in 3 4 punti liverpool arsenal e city quindi ne parleremo anche di questo a parte una bundesliga già ormai a mani basse la vincerelle l'everkusen e poi tutto il resto comunque ne parleremo di là nella tribù nel pallone oggi invece uè bilanista allora la tabellina com'è lì non avevi fatto la tabellina per vincere lo scudetto noi perdiamo punti e uè bilanista c'è il buzzuro nell'azzurro che è già pronto è vi dico ai motore il motore caldo per lui allora i dubbi di conte conte in questo momento dell'aurendis offre colpi e ingaggio top mandonio frena ma non solo questo sulla gazzetta interista dello sport perché dall'altra parte allora conte milan pista più che mai viva e il chiodo fisso libra perché allora voi dovete sapere ragazzi che in questi giornali e giornalacci praticamente non è che vi dicono solo una una cosa poi vi dicono anche l'altro retroscena perché adesso conte lì che dice dove vanno me ne vado da da l'aurendis che quello mi posso mangiare il capitone a natale mi farà la pastiera o casatiel a pasqua i struffoli o una bella pizza lì a mare chiaro oppure devo andare a milano già ci sono stato con la nebbia non c'è più ormai un mito devo farmi le solite passeggiate lì sui navigli in brera le vasche di corso buenos aires le vasche per chi non lo sapesse se è il vialone cioè noi quando via i milanesi noi quindi si fai una vasca via 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 le in corso buenos aires perché fai avanti indietro le vasche di piscina per chi non è di milano ecco e dunque tutto può succedere perché perché secondo questi giornalacci praticamente ibraimovic ha un chiodo fisso qua cioè ce l'ha stampato qua e praticamente non smette di pensare antonio con cioè con tutti i pensieri che a ibra però ce n'è uno che antonio conte non gli esce dalla capa praticamente e praticamente lui lo vorrebbe sì o sì nel milan e beh è ovvio per quello cara la mia gazzetta e certo e non è che cioè conte anche lui c'ha i suoi dubbi perché dice allora ma io conti forse in te abbraccia il progetto napoli è più bello lì c'è il bel golfo ti fai una bella camminata a posilli a castel dell'uovo maschia un gioino ti fai tutta via caraccio fattelo dire da uno che conosce bene napoli è meglio napoli lascia perdere milano va bene gente come come pioli capito a pioli al milan sta benissimo cioè veramente sta benissimo però al milan sta benissimo ma spunta un clamoroso retroscena e chi lo dire c'è questo retroscena tutto mercato web praticamente non è più così sicuro che il milan possa continuare con stefano pioli perché perché o vince adesso l'europa league e mantiene il secondo posto che ormai vabbè la più sedia la juve a meno che succeda ovviamente dei patatracca fino a fine stagione ormai consolidato no però adesso no cosa vi dicevo io qualche settimana fa dice no l'importante che arrivi almeno fino alle semifinali europa league poi è passato no per mantenere il posto almeno fino alla finale no adesso la deve vincere cioè più va avanti più se non vince cioè capite cioè questi qua veramente vi rincoglioniscono a voi ma 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 sono messi male mentalmente questi qua non sono un po' squilibrati cioè loro come fanno a sapere le strategie del milan dai veramente cos'hanno lì il microchip nei cellulari di furlani di cardinale di scaroni che l'altro giorno tra l'altro ha pure confermato e resta sulla panchina del milan pioli c'è un altro anno di contratto ragazzi io vi dico già adesso che pioli resta al milan non cambia niente quell'altro anno di contratto lo finisce e poi in base come andrà la prossima stagione alla fine probabilmente lì sì che si chiuderà eventualmente un ciclo di cinque anni ma un altro anno cari miei pioli out e detrattori e che pioli un mediocre se non lo volete più l'anno prossimo datevi all'ipica coi cavalli o all'ittica con i pesciolotti come voi che siete dei pesciolotti che è stata presso tutte le cazzate di certi youtuber di certi pseudo giornalisti perché io ve lo dico da tempo stefano pioli ha in mano la situazione lì perché se lo avessi in mano non saremmo al primo posto in italia uno dice ma se dice che sei impazzito no perché nel campionato italiano noi siamo al primo posto nella marotta league siamo al secondo posto perché c'è la marotta league con l'inter che fa parte di questa lega e poi c'è un campionato più diciamo consono e onesto che è quello italiano dove il mila in questo momento ha più 6 dalla juventus ok quindi lascia per la marotta lì ma guardate la prova in più siamo l'unica squadra di quelle che sono lì sopra che sta continuando ancora in europa in europa league quindi ma cioè come fai a pensare di andare già pioli vedete è da pazzi pensare a mandar pioli una cosa fosse il disastro ma avete visto il napoli da che si è andato spaletti la squadra che l'anno scorso ha ucciso il campionato cambia con rudy garcia flop mazzarri flop del flop ma ci sta pure calzone se mangiano pure calzone con calzone e niente di niente lo stesso una squadra che non andrà neanche in conference league ragazzi i campioni d'italia con il campionato più bello della storia che ha spaccato tutto e quest'anno sanno spaccato la capa tutto quanto e io lo dico ai miei cari amici di fucile napoli sapete che io ho simpatia per napoli per i napoletani però ragazzi questa è la differenza tra una società seria e una società arosta barbagiani barbagiani un grandissimo showman senza ombra di dubbio però a livello di presidenza del napoli qualche qualche errore ne ha fatto ne ha fatto pure assai perché una squadra del genio dice vi ricordate youtube l'anno scorso è cominciato il ciclo del napoli adesso vinciamo in italia in europa nel modello da io cosa vi dicevo io ho detto ragazzi godetevi sto scudetto perché da questo momento passano i nati 30 anni perché ne vincete una volta ma sta tutto zitta e alla fine il marietto come sempre ha ragione ma perché il calcio io lo vivo da quando facevo pio pio da quando ero un bambino quindi certe dinamiche le ho già viste e si ripetono ciclicamente come purtroppo si ripetono ciclicamente le guerre perché l'essere umano è ignorante nel fondo è uno stupido nel fondo è un uomo di neandertal nel fondo e quindi deve creare guerre costantemente lo stesso succede nel calcio ci sono corsi e ricorsi storici però c'è chiusa il cervello e che invece deve seguire sti quattro pseudo giornalisti e youtuber che non valgono una beata fava ok quindi seguimi se hai un po di cervello se non hai cervello vai non c'è bisogno che stai in questo canale non ho bisogno io delle tappe tappe perché voi siete tappe come diceva diego abbatantua dunque svolta improvvisa praticamente anche su zirk zi mamma mia cioè ogni notizia sembra buona ma mise la gazzetta in caso di conquista della champions league del bologna che sta andando benissimo ieri ha vinto ancora 3-0 con la serenitana si sta meritando il quarto posto assolutamente praticamente il bologna vorrebbe trattenere almeno un altro anno tutti i pezzi pregiati zirk zi compreso e quindi anche lui un altro allora mariuccia tu che stai facendo l'elenco di la spesa di giocatore di mina zirzi già comincia a mettere una croce su però con un dubbio a fianco perché sai che queste cose arrivano dalla gazzetta quindi ci sta e non ci sa comunque metti una x un attaccante in meno perché adesso l'altro attaccante ovviamente che è in voga chi è secondo voi che ogni tanto deve uscire il suo nome chi è secondo voi maurito icardi ebbene sì maurito icardi ragazzi miei perché non è che dici sai una volta due volte tre volte quattro voci ogni due per tre occasione da cogliere e chi dice questa volta questa cosa qua valon berami a sky sport l'ex giocatore dudinese geno che già conosciamo praticamente un giocatore a cui piace usare lo hanno sempre criticato ma lui tornerebbe di corsa a milano però da istambul è lunga non è che puoi venire con la coppa kebab di cialanoglu dell'anno scorso e la corsa la corsa è lunga capito quindi no no ad azzon l'ha detto scusate scusate no a skype che dopo cosa sta dicendo ad azzon l'ha detto e quindi vabbè quest'anno 23 centri 11 assist al vizio del gol oliviero lo sparviro ormai destinato ad andare in los angeles fc fc negli stati uniti e quindi il milan sarà a caccia del bomber dirgzi già ha detto la gazzetta che non si muove da bologna se si va in champions league quindi il milan dovrà cercare se esco poi chi sono gli altri david poi chi c'è ancora ma quando abbiamo camarda che ieri ha fatto il gol della vita juve milan 0 1 in primavera e ha fatto già il settimo centro in campionato più tre in league tre in coppa italia primavera il ragazzo di 16 anni portiamoci camardinio subito in prima squadra e non ci pensiamo più cacchio ragazzi l'altro giorno vedevo dei gol di pato quando era arrivato al milan che aveva 17 anni e subito era entrato titolare nel milan qual è il problema ci portiamo subito a camardinio se questo è il problema lo affianchiamo ovviamente non è che se questo viene non chiede 10 milan all'altro si ribassa 3 4 milioni perché quello ma pigliatelo pure a mauro i card però mi porto già camardinio su jovic me lo tengo come panchina me lo tengo e siamo a posto ragazzi perché cioè io ti dico se fai venire uno come i cardi ma ci può anche stare però alzare subito camardinio in prima squadra quindi questa è un po la mia idea a differenza anche di criscitiello che la mattina prende il caffè il pomeriggio la camomilla e la sera non si sa se si fa qualche ciupito perché un giorno dice una cosa su stefano pioli l'altro giorno dice un'altra allora pioli via dal milan e dice a un certo punto se si vuole crescere bisogna avere il coraggio di alzare l'asticella è un ottimo allenatore per il milan è cresciuto tanto però bisogna avere anche il coraggio di cambiare bisogna avere il coraggio di cambiare criscitiello ma tu che eri quello che diceva bisogna spezzare le gambe a leao per fermarlo e figlio mio non è che un giorno mi puoi dire una cosa l'altro giorno ti sveglio ieri sera magari tua moglie t'ha dato buca e stavanti a te giro in duscat non ho capito criscitiello criscitiello allora se tu cambi pioli devi prendere un allenatore che sappia alzare veramente l'asticella ma per alzare l'asticella in questo milan che ha preso lui per mano con dei ragazzini 4 5 anni fa quindi conosce a perfezione tutto l'ambiente milan eh ma tu devi prendere solo tre allenatori che ripeto sono o clop guardiola o ancelotti perché gli altri sarebbe lo stesso sarebbe sullo stesso livello figlio mio quindi se vuoi fare l'upgrade questo alzare l'asticella devi prendere dei top allenatori ma il milan top allenatori non li spende ma manco per conte perché poi conte non è un top allenatore cosa ha vinto in europa conte che differenza fa fra un conte che arriva il sergente che poi ogni due per tre abbiamo problemi in in sala stampa problemi con lo spogliatoio si spacca lo spogliatoio come come ha fatto con l'inter dovunque è andato ma per favore ma ma che se lo tengano i pioli out e fatevi una squadra voi di che con conte ma ma figuriamoci se io voglio un allenatore del genere io vi ho detto i miei tre oltre pioli sono questi altrimenti e noi faccio come faccio la sandra mondain che barba che noia che barba che noia si direbbe la napoletana dentro questo ragazzuoli allora oggi delirium italicalcium in serata vediamo quando riesco quando un momento per fare il nostro delirio teatro cabaret sui miei personaggi o che in giro il napoletano e bilanista il buzzurro nero azzurro il gobbo del rongevo piuttosto che i tre ue pirla il fantamilanista maestro zanna o il ue mi con scinta il milanista classista vediamo un po e gli altri non lo so ragazzi perché per farli tutti già ve l'ho detto c'ho un botto di tempo però almeno le prime qua le quattro squadre più seguite le copro normalmente tutte quindi like iscrizione al canale condivisione ovunque comunque grazie per coloro che mi sostengono attraverso gli abbonamenti donazioni e tutto ciò che di bello c'è per rimanere qua nei quattro canali che io faccio grazie a tutti coloro che si sono iscritti anche gli altri miei tre canali saggezza popolare delirium italicalcium e la tribuna il pallone se non l'avete ancora fatto i link sono basso in descrizione mi raccomando seguitemi ovunque comunque come il nostro grande milan un bacio all'amica un forte abbraccio a tutti gli amici ti auguro davvero una felice giornata e noi ci vediamo alla prossima ciao